Grazie, grazie Presidente. Vado a illustrare questa mozione che ha una finalità, uno scopo ovvero una maggiore, una migliore promozione dei sistemi informatici dell'unità di crisi della Farnesina che sono dedicati agli italiani che si recano o che si trovano all'estero. Una maggiore promozione tra la cittadinanza dell'app, dell'applicazione e dei portali internet dove siamo nel mondo punto it e viaggiare sicuri. Presidenti, colleghi, la sicurezza esterna, e ci tengo a fare questa premessa, è uno dei primi doveri dello Stato. Infatti se esso non garantisse i suoi cittadini contro le violenze esterne e se ognuno non si sentisse protetto dal proprio Stato, sarebbe inutile la consociazione e si cadrebbe nell'anarchia. In relazione a questo è di grande insegnamento il filosofo inglese John Locke che voglio ricordare oggi anche per la situazione attuale della Brexit. Infatti penso che dovremmo capire meglio il motivo per cui il Regno Unito non si riconosce più in questa Unione Europea e convincersi finalmente di incrementare la protezione verso i nostri concittadini. Affinché la libertà possa esistere è necessario che il Governo sia organizzato in modo da garantirne il godimento. Ed in tal senso la libertà di movimento deve essere accompagnata dalla sicurezza pubblica. A tal riguardo l'unità di crisi della Farnesina rappresenta un'eccellenza ed è costantemente impegnata per proteggere i nostri concittadini all'estero. Ma il passo successivo da compiere spetta a noi che abbiamo il dovere di permettere la continua divulgazione di queste iniziative. Infatti la nostra mozione vuole far sì che tutti possano essere a conoscenza degli strumenti a loro disposizione. Non possiamo consentire che la sicurezza sia un privilegio di pochi, ma al contrario vogliamo permettere a tutti di avere gli strumenti per chiedere assistenza e consentire così allo Stato di compiere la sua funzione protettiva. Non vogliamo lasciare nessuno indietro, ma per farlo dobbiamo impegnarci per divulgare ulteriormente questi strumenti affinché venga pienamente rispettato il diritto all'informazione. Questa mozione, Presidente, è una lunga storia. L'ho scritta per conto del gruppo della Lega e l'abbiamo depositata il 21 agosto scorso. E ringrazio per la calendarizzazione, mossa innanzitutto dalla necessità di garantire ai nostri cittadini all'estero un livello di assistenza sempre maggiore. Il mondo cambia velocemente. Trovarsi in una situazione di emergenza seria è sempre purtroppo più probabile, testimone ne sia l'epidemia di coronavirus di questi giorni. La rete diplomatica è spesso obiettivo di richieste risolvibili ad altri livelli e a volte tali uffici vengono intasati da istanze che possono essere facilmente risolte con i mezzi che l'elettronica ci mette a disposizione o da altri soggetti. Il Ministero degli Affari Estri, la Farnesina, è dotato di un'unità di crisi dedicate in modo specifico all'assistenza degli italiani che si trovano all'estero in situazioni di grave emergenza, quali attentati terroristici, calamità naturali, gravi tensioni sociopolitiche, pandemie. Quindi, quando parliamo dei piccoli inconvenienti della vita in viaggio che possono capitare ad ognuno di noi, non stiamo parlando delle importanti questioni che coinvolgono la nostra unità di crisi. La tecnologia ha permesso a ciascuno di noi di risolvere tutte quelle incompressioni derivanti, ad esempio, dal non parlare una lingua comune oppure dal non capire quali siano i comportamenti più appropriati da tenere in alcuni Paesi. Ormai abbiamo tutti un vademe comportatile con il quale riusciamo ad orientarci persino nel deserto. Quindi forse è il caso di utilizzare il telefonino, lo smartphone, almeno nei casi come questo, visto che potrebbe salvarci la vita. Ed è nostro dovere, anche da parlamentari, promuovere questi sistemi salvavita. L'unità di crisi utilizza tale efficace tecnologia per raggiungere le regioni più remote del mondo e per prevenire situazioni di crisi o pianificare interventi di soccorso al fine di tutelare non solo gli interessi degli italiani all'estero, ma anche quelli del nostro Paese. Da 34 anni l'unità di crisi della Farnesina è attiva e operativa. Il suo lavoro si articola su cinque settori. Analisi dei rischi, monitoraggio della presenza italiana nel mondo, prevenzione e informazione, predisposizione e verifica dei piani d'emergenza, gestione delle crisi e interventi operativi. I componenti della squadra in tale unità sono 30 e l'unità attiva sette giorni su sette, tutta la settimana 24 ore su 24. In tal modo riesce a gestire circa 500 casi all'anno, casi che vanno dagli atti di terrorismo alle gravi tensioni sociopolitiche, calamità naturali e pandemie, come abbiamo detto anche in precedenza. Ma i contatti che tiene l'unità di crisi e gestisce ogni anno dalla sala operativa arrivano a ben 100 mila. Il portale viaggiare sicuri.it riporta profili continuamente aggiornati di 220 Paesi. Per profili si intendono informazioni generali, sicurezza, situazione sanitaria, cautele da adottare, mobilità, avvertenze normative rilevanti per chi viaggia. Ed una mappa sul sito Internet rende visibili circa 800 alert al fine di identificare immediatamente aree di particolare cautela, allerte sanitarie e avvisi in evidenza. Tali dati vengono continuamente revisionati e aggiornati circa 2 mila volte all'anno e vengono visualizzati in media da circa 13 milioni di persone nello stesso periodo di tempo. L'altro grande contributo dell'unità di crisi consiste nel sito dovessiamonelmondo.it che consente a chi viaggia di segnalare i propri itinerari e i propri riferimenti, in modo da permettere all'unità di crisi di pianificare in modo efficace e accurato eventuali interventi. Tale portale da segnalare è molto utilizzato dalle aziende italiane e circa 100 mila sono le registrazioni effettuate ogni anno da aziende italiane per il proprio personale in trasferta dall'estero. A fine giugno 2019 è disponibile la versione aggiornata dell'app dell'applicazione informatica che è scaricabile e consultabile su smartphone e tablet. È l'app della Farnesina per la quale è richiesta una semplice registrazione. Tale strumento agile e di facile consultazione integra tutti i servizi dei due portali e tra l'altro consente ai viaggiatori di geolocalizzarsi e ricevere notifiche durante i transiti nelle aree più a rischio, permettendo contestalmente di comunicare in tempo reale la propria condizione durante una fase di crisi. La sala operativa dell'unità è aperta 24 ore al giorno e fornisce anche una crisis room virtuale per il coordinamento in tempo reale con l'ambasciata coinvolta nel caso di una situazione d'emergenza. La Farnesina è impegnata a far conoscere quanti più cittadini possibili l'attivazione di questa applicazione e le sue potenzialità, che in un mondo di crisi non prevedibile e di sconvolgimenti climatici permette agli italiani che viaggiano per qualsiasi motivo, ad esempio per studio, per lavoro, per vacanze e per salute, di essere sempre informati e prontamente soccorsi e assistiti attraverso strumenti in uso comune come il telefonino, lo smartphone e i tablet. Un esempio dell'utilità di tale app è particolarmente evidente in questi giorni di crisi mondiale per il diffondersi del nuovo coronavirus isolato tra gli altri. E qua va il nostro applauso anche dall'Istituto Nazionale delle Malattie Infittive Spallanzani di Roma, proprio nella giornata di ieri. E proprio a proposito, al di là del Consiglio di posticipare i viaggi non necessari in Cina ed in particolare di evitare tutti i viaggi alla provincia dell'Ubei, si trovano sull'applicazione sui siti dati aggiornati sulla diffusione del virus e consigli pratici su come rimanere informati su quali siano le linee aeree che non voleranno in Cina, Macau, Hong Kong e a Taiwan, vista la decisione presa dal Governo di sospendere i voli con tali Paesi, anche se come Lega non capiamo esattamente perché Taiwan si è incluso in questa lista. Per tutti questi motivi noi vorremmo che il Governo si impegnasse maggiormente nella sua interezza a promuovere e incentivare ulteriormente la campagna istituzionale di sensibilizzazione con tutti i mezzi utili e necessari, anche attraverso spot dedicati sui principali organi di stampa, sulle tv, sui canali social, sui canali web e sempre del mondo dei social del Governo e di tutte le istituzioni di riferimento, per esempio la Polizia di Stato, in particolare la sezione dedicata ai passaporti, si impegnasse a promuovere maggiormente questi strumenti che sono degli strumenti salvavita, di fondamentale utili e di fondamentale importanza, un'eccellenza tutta made in Italy italiana a livello internazionale. E a tal proposito abbiamo dato anche degli esempi chiari, concreti, si potrebbe pensare di avviare anche le procedure per apporre uno specifico riferimento scritto sui nuovi passaporti ed indicare una semplice frase, registra qui il tuo viaggio, sul sito dove siamo nel mondo.it. La dicitura esatta è indicata nel testo della mozione, ovviamente coordinandoci a livello internazionale per quanto concerne gli standard da rispettare per una procedura del genere. Chiediamo di avviare in questa mozione nel dispositivo una mirata campagna informativa mediante apposito materiale elaborato dall'unità di crisi, quali poster, volantini, video istituzionali, altro materiale pubblicitario, di predisporre delle iniziative nelle scuole superiori, nelle università e in tutte le sedi diplomatiche italiane. Ci aggiungo anche i desk negli aeroporti delle compagnie aeree, l'agenzia di viaggio. Vorremmo poi che il Governo si impegnasse, eventualmente anche ricorrendo ad accordi specifici con i gestori telefonici e le piattaforme online, a sottolineare l'importanza e l'utilità di registrarsi sul sito web della Farnesina attraverso l'apposita applicazione di cui in premessa, prevedendo altresì un'apposita sezione nella quale i concittadini possano indicare gli estremi delle polizze assicurative stipulate in previsione del viaggio. Quest'ultimo aspetto, vado anche a spiegarlo, perché abbiamo inserito le pollizze assicurative, l'indicazione degli estremi della mozione. È molto importante per noi e l'abbiamo inserito, è importante e per suo tramite mi rivolgo anche al Governo da cui stiamo acquisendo delle integrazioni e delle modifiche a questa mozione. È importante per i nostri connazionali perché molti concittadini stipulano polizze assicurative, in particolare quando si recano in zone sensibili o in Paesi dove è obbligatoria tale copertura. Purtroppo il tempismo, in caso d'emergenza, è tutto ed è necessario che questi estremi delle pollizze siano prontamente fruibili. Quindi noi chiediamo di impegnare il Governo di avere le procedure per inserire in questa applicazione la possibilità di indicazione per chi le sottoscrive le pollizze di inserire gli estremi in modo tale a poter consentire a chi poi presta soccorso dall'Italia o penso ai nostri diplomatici all'estero una pronta assistenza ai connazionali che purtroppo si trovano in difficoltà. Questa mozione è una mozione molto tecnica, però ci tengo a dire che l'abbiamo scritta col cuore. Io sono stato personalmente anche con colleghi della Lega, non solo, penso anche con colleghi della Commissione Esteri alla Farnesina e per ben due volte ho avuto modo di visitare e di apprezzare il lavoro dei 30 operatori che sette giorni su sette, H24, lavorano con grande professionalità nell'unità di crisi. Sono rimasto anche, Presidente, affascinato dalla loro dedizione e dall'impegno che ci mettono. Si interfacciano il computer o per telefono con persone che magari si trovano dall'altra parte del mondo e che si trovano realmente in difficoltà. Hanno elaborato questi strumenti, qua sul telefonino c'è l'applicazione, sul sito Internet e siamo all'avanguardia a livello di Paesi d'Italia rispetto agli altri Paesi in questi sistemi di gestione. Nel senso di questa mozione è portarla, portare l'applicazione, portare le diciture di questi siti Internet, il lavoro che fanno in questo Parlamento e usare anche, nel senso buono del termine, i colleghi parlamentari e l'Aula per amplificarli e per promuoverli ulteriormente, perché sono strumenti utili e che servono veramente. Quindi, con tutto il mio cuore, io abbraccio uno ad uno i nostri funzionari dell'unità di crisi, ringraziandoli e mi rivolgo per suo tramite alle altre forze politiche. Spero che questa mozione possa essere votata e sottoscritta anche dagli altri colleghi deputati, pensando di far qualcosa di veramente utile per l'Italia e per la sicurezza dei nostri cittadini nel nostro Paese e all'esterno.